Sono Claudio Bortolami, responsabile marketing del brand Vicona della Hydro Building Systems. Noi abbiamo sponsorizzato il convegno di ieri perché crediamo nell'unione degli apporti tecnici di conoscenza di tutti i professionisti che da tempo hanno fatto la scelta di puntare su quelli che sono i sistemi più prestazionali all'interno di un volico edilizio che abbia un bilancio energetico molto efficiente. Per questo motivo noi siamo qui anche alla Fiera Climhouse con uno stand espositivo dove i nostri prodotti parlano da soli in fatto di massimo risparmio energetico, prestazioni massime anche sulla sicurezza con blindati antieffrazione con tutte le tipologie, porte, finestre, facciate continue, scorrevoli.